Che mare favoloso! Sì, sono io, la nave. Non è strano? Con MOBI e TIRREGNA, tutto è magico! Conosciamo i miei nuovi ospiti. I signori rossi a quanto pare sono entusiasti. La cabina è proprio di loro gusto. Non esagerate! I bianchi invece sembrano un po' difficili. Ma nessuno resiste ai miei giochi. Ognuno ha il suo divertimento. A quanto pare c'è qualcosa che unisce i rossi e i bianchi. Lo sport più bello del mondo? Beh, non solo. Ora è tempo di merenda. Che vista splendida! Sono davvero fiera di me. Ma cosa fate lì in piscina? Non vi tuffate? E dai, approfittate! È tempo di sole e relax. Ci avrai scommesso. I rossi per mangiare hanno scelto la pizzeria. Invece i bianchi sono al ristorante. Eh sì, sono piaciuta anche questa volta. Con MOBI e TIRREGNA le vacanze cominciano dal viaggio. Prenotate ora per la Sardegna. A partire da 39 euro per persona. Info e restrizioni MOBI.it